Il verdetto conferma la sentenza di primo grado tranne che per ribaudo che il tribunale aveva assolto nel merito. Come già avvenuto in primo grado è caduta dunque l'aggravante mafiosa, cosa che ha comportato la prescrizione del reato di calunnia. Secondo l'accusa sotto la direzione dell'ex capo della Mobile, Arnaldo Labarbera, nel frattempo deceduto, i tre poliziotti avrebbero creato a tavolino una falsa verità sulla strage di Via D'Amelio costringendo personaggi come Vincenzo Scarantino, piccolo delinquente della borgata guadagna, a dare una ricostruzione non veritiera della fase preparatoria dell'attentato e ad accusare mafiosi che con l'autobomba di Via D'Amelio non c'entravano nulla. Dichiarazioni, quelle dei falsi pentiti costate l'ergastolo a sette innocenti poi scaggionati con il processo di revisione. Al dibattimento erano costituiti i parti civili, i figli e il fratello del giudice Borsellino, alcuni familiari degli agenti di scorta e sette mafiosi condannati per l'eccidio. A smascherare il depistaggio fu la procura di Caltanissetta che sulla base delle dichiarazioni del collaboratore di giustizia, Gaspare Spatuzza, riaprì le indagini sull'attentato ricostruendo le reali responsabilità nell'eccidio della famiglia mafiosa di Brancaccio. Prima di aver letto le motivazioni non si può dire che la Corte abbia ritenuto responsabili gli imputati, nulla sembra essere cambiato rispetto al primo grado, ha commentato il legale dei poliziotti Fabrizio Mattei e Michele Ribaudo in merito alla sentenza della Corte d'Appello di Caltanissetta. Grazie a tutti.